magic mary rigido 2.35 29 ultra soft oggi c'è fangazza cerchiamo di provarlo al meglio ciao ragazzi fatto un girettino per smaltire le scorie della settimana dopo il furto dopo tutto quello che è successo volevo intanto ringraziarvi tutti per quello che state facendo per la mano che ci state dando e dirvi che riusciamo forse a non chiudere e ci trasfereremo su una nuova sede adesso in un paio di settimane dovremmo riuscire a definire il tutto oggi abbiamo provato la magic mary 12 2.35 29 allora ero convinto visto che ha piovuto per un paio di giorni che il grip della magic mary che conoscevo benissimo nella 27 e mezzo fosse al top non è stato così ho fatto quasi un mese a usare il minion di hf 2.5 double down le particolarità e le differenze tra le due come sono abissali allora la minion maxis quindi ha una sponnevolezza direttamente superiore la tenuta soprattutto sul terreno bagnato è inferiore se vogliamo a livello di picco massimo ma è graduale il feeling che da quando va a lasciare in gomma magic mary invece ci ho provato oggi con fango e bagnato si ha la percezione di una gomma che tiene ma nel momento in cui lascia non hai più possibilità di fare nulla quindi tiene fino a quando tiene e stai tranquillo ma da quando smette di tenere è una saponetta sono rimasto un po male sinceramente ricerda del cimitero molto meglio come prima pressione per l'altra gomma che dovrebbe essere aperto ma vediamo è parecchio bagnato tutto ieri tutta la notte veramente arriveremo giù completamente bagnati io non vedo più niente la mascherina farsi male è un attimo su tutti i sanzi questo è un pezzo un po stronzo è un pezzo Grazie a tutti. C'è un canale gigante, contatto di albero, attenzione. No, no, non tiene un cazzo questa roba. No, no, non tiene un cazzo. No, 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 non tiene un cazzo. No, 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 non tiene un cazzo. told me that one's the major maia è vero che non c'era quella c'è una mare pezzo eh Wow! Feeling good there!